Alternate in curls. In piedi, gambe divaricate come l'ampiezza delle spalle. Busto diritto. Braccia completamente distese lungo i fianchi. Mantenendo il braccio e la spalla immobili, flettete l'avambraccio. Durante l'esecuzione il gomito deve rimanere immobile, per evitare di coinvolgere i muscoli frontali della spalla, ed isolare il carico di lavoro sul bicipite. Ritornate in posizione di partenza, ed eseguite il movimento per l'altro braccio.